Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai Indosso le cuffie e grazie, 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 grazie per essere sempre qui in compagnia con me alla domenica grazie per il like, iscriviti al canale e grazie per il commento random che noi siamo soli di mettere subito così poi ci addormentiamo, non ci dimentichiamo, vero creatura? e io metterei un pulcino, un pulcino come commento perché li vedo qui nello schermo e mi venirebbe voglia di mettere subito un bel pulcino ma tu puoi mettere quello che vuoi, ovviamente, quello che ti senti in questo momento anche una cosa che non ha alcun senso è il bello delle mochi e va bene, abbiamo le ultime tre stanze da fare insieme, grazie sempre per il tuo supporto perché siamo in pochi che guardiamo questa serie e guardiamo perché mi ci metto dentro anch'io perché è troppo bella e io la faccio, io registro ma comunque anche me le riguardo perché lo trovo veramente rilassante questo gioco e siamo in pochi ma buoni come si suol dire perché il livello di visualizzazione è sempre lo stesso anche se è basso però è sempre lo stesso quindi vuol dire che non è come per altre volte che mi vedi i commenti e si continua e poi dopo non la guarda nessuno ma chi ha detto continua a farla ha mantenuto la parola perché sta continuando a guardarla quindi questo è davvero apprezzabile cioè l'ho apprezzo tanto benissimo, allora direi di andare a finire questa casa e abbiamo il piano di sopra la stanza della marmocchia o del marmocchio, non so di un futuro figlio, non so se già ce l'abbiamo e poi la camera armadio e anche quello più succulento l'ho tenuto per ultimo con tutti i vestiti e il bagno grande io andrei dalla marmocchia ok niente le c'è il fasciatoio niente le piante grande non me le fa mettere sulla finestra che a me piace tanto comunque penso che dovrà ancora nascere perché c'è una poltrona qua non lo so la poltrona mi fa pensare al che deve ancora nascere ah ci piacciono le api ma li sto mettendo qua a caso perché vorrei metterli qua ma non riesco perché c'è questo scatolone oddio non ho figli non so come vadano gli oggetti onestamente ok le magliette della marmocchia o del marmocchio perché vabbè scherzo della bambina mi fa ridere marmocchio per rettino abbiamo un sacco di palline liberiamo questo che ho bisogno di vedere com'è fatto quello lì no che bella luce io lo vorrei per casa mia è bellissima non so se qua vanno i libri ma non me li fa mettere in piedi cioè ci va solo un oggetto lì questo è quello che mi sta dicendo non ci sta mettiamolo qua mettiamolo qua oddio inquietantissima sta cosa che l'ho vista peccato non ci stiamo insieme allora facendo amici coccolosi posizionata la tigra e il maiale uno di fianco all'altro allora facendo le cose a caso pecco degli achievement che bello molto mi fa troppo ridere sta cosa abbiamo vinto anche uno sticker un ciuccetto di questi nebbiantanti adesso appoggiandoli così random vincerò qualcosa cos'è questo non lo so non lo so schiaffiamolo dentro un cassetto ma quanti sono oddio aiuto non c'è più posto questi non so cosa siano io li ho messo tutti nel cassetto le cremine per il sederino le salviettine da sederino i pannolini non lo so pannolini non lo so si vede che non ho figli eh oh allora qua mettiamole così per il sederino devo capire i libri dove vanno questi sono tanti io li voglio mettere tutti qua sotto si possono mettere perfetto uno sopra l'altro molto bene ok dopo quando spostiamo questo mettiamo anche gli altri poi sposterei questo che bel cuscino e qua non ci sta mannaggia queste non so cosa siano devi dirmelo tu creatura adesso metto qua random dopo sistemiamo tutto perché devo capire quanto spazio ho ecco tipo questo non andrebbe in macchina no? no? ok niente dobbiamo liberare tutto il signor è quello del nostro libro che bello credo sia il nostro libro giugio giallo magliettina ci sta eh dobbiamo metterla bene ok che bello il conglietto nero top conglietto nero ha vinto allora aspetto perché qua abbiamo messo i berretti qua mettiamo le magliettine i berrettini li possiamo mettere qua la magliettina di metallica vero lestosa non so non so il berrettino che bello questo da orsetto super chiudo ok un'altra di queste anche questi sono dei mega pannoloni li mettiamo là dopo il cestino per buttare via i pannoloni i pannolini quel che è oh finalmente ho spazio posso mettere come voi e posso vedere dove mettere le cose ok poi i pannoloni ci stanno qua no però potremmo mettere le palline e questi sono aglietti da notare che ce n'è sia uno rosa che uno azzurro quindi non so se non sappiamo se sarà maschio o femmina se deve ancora nascere non lo so ho perso il giugno qui dentro non mi riesco più a recuperarlo vabbè resterà lì per sempre e allora questo possiamo metterlo così secondo te secondo me sì allora i libri sono quattro quindi direi che possiamo metterli qua questo fasciatoio credo sia un fasciatoio come si chiama lo mettiamo qua poi tigre lo mettiamo qua perché se no non mi fa mettere aspetta qua voglio mettere il cuscino che non mi fa mettere sopra il cuscino ma perché il cuscino non lo mettiamo qua dentro così me li fa mettere invece se metto tigre non me la fa mettere tigre me la fa mettere perché prima no vabbè niente non dobbiamo arrabbiarci mi stavo arrabbiando io mi stavo arrabbiando ok la pianta io la sposterei perché mi occupa per niente possiamo mettere qua in alto ok poi magari i sonagli li mettiamo qua qua penso ci sia qualcos'altro ma non ho idea di cosa perché boh non so il cestino qua cosa c'è mi posso mettere gli oggetti qui dentro no cioè questo che cacchio è perché non posso schiaffarci dentro dei sonagli per esempio no non si può sono agli acquatistano ok allora ops se non schiaffavo il ciucio qui adesso non riesco a toglierlo ragazzi ho perso il ciucio sono riuscito a recuperare il ciucio aspetta che volevo mettere questo rosa sopra perché è carinissimo l'altro sonaglio l'altro sonaglio lo mettiamo qua qua mettiamo le palline ok il ciucio lo mettiamo qua che così almeno si vede anche e questo è carino vorrei che si vedesse e poi qui cosa ci sta non ci sta nient'altro penso qui ma questi non possono mettere uno sopra l'altro no no non si può questi non si possono mettere non so cosa siano questi non mi li fa mettere mi li fa mettere qua in alto col lento ma tanto anche se li sposto non ci sta nient'altro la palla possiamo metterla qua perfetto cadrà sotto la prima un po' vabbè ok poi chiudiamo un po' di cassetti e coniglio possiamo metterlo qua e questo lo mettiamo qua vabbè dai così mi piace abbastanza oppure la palla potremmo mettere al tigre e questo lo mettiamo qua anche sì mi piace anche è bellissimo quel coniglio lo vorrei io non dico altro non aggiungo altro poi abbiamo poi il creatore perché è l'ultima puntata di questa casa mi lo dirà al gioco se il coniglio non andava lì o il gioccio non andava lì ecco il cuscino che ne so bene abbiamo le ultime due stanze andiamo al bagno ti tengo proprio guarda qua per ultimo lo spazzoglio da dentro qua si apre benissimo qua si apre pure lo lasciamo aperto che così mi sistema le mie cose metto qua perché non so se ho la tazza quella scheggiata o se devo andarmi a prendere quella in cucina c'è una tazza qua ci stanno le cose perfetto allora usiamo questa piegaciglia i nostri blush il nostro make up il nostro scrub intanto lo mettiamo qua cremine varie le penzette non ci stanno qua nessun problema mettiamole di qua altre creme varie sapone per le mani tre cremine varie questo lo mettiamo qua in giù allora ok mega non ci sta come metto qua è andato queste ma scusami infatti perché l'ho messa lì vabbè non mi ero accorta che c'erano queste mensole di vetro fichissime qua c'erano le cose più alte che sono queste qua c'erano le cose viola 5 stars smr che vive con la torre si pesa io la metterei proprio qui in bagno no scherzo tolava misi qua si ok il papel asciugamano tanto non mettiamo qua poi vediamo perché potremmo metterli anche qua i nostri osservanti che ne avremo una collezione perché siamo due donne in teoria in teoria credo che uno sia deodorante roll on e uno sia fino interdentale se non sbaglio la vitamina D o altri assorbenti forse non lo so i cerotti altri che su vitamine non lo so i fattore D i Kleenex li mettiamo qua intanto anche se mi sa che qua vanno tipo le cose per pulire di solito lo mettiamo qua vicino al 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 taglia unghie la bilancia non mi piace tanto vera la vorrei mettere qua sotto dopo se me la fa mettere la metto qua ok rotoli di carta igienica c'è il portarotoli che bello me lo voglio prendere anche io il portarotoli qui c'è il tappetino per non scivolare dentro la vasca da bagno molto utile qui mettiamo eh no volevo mettere questo possiamo mettere qua la bilancia comunque se non dà fastidio lo scopettino del vicino mettiamo qua la terra la terra no oddio potremmo anche in realtà potremmo metterla qua è un ripostiglio alla fine il kit del pronto soccorso di solito la metto qui qua c'è la nostra spugna questo potremmo anche piegarlo e metterlo dove non so vediamo quanti asciugamani escono mettiamola vale ok questo è la il cesto della biancheria sporca altra carta igienica altra spugna altre cose qua il rasoio che ogni volta dovunque la mettiamola ci sta bene non lo so qual è il tanfax assorbenti con le ali notturni questa è per il buccato i capei bianchi altri detersivi il caffè no non lo so cos'è questa mettiamola qua altri saponi che qui non ci stanno li mettiamo qua ecco questo per gli insetti e non ce ne sta più allora azzurro bo azzurro bo qua facciamo così più bello da vedere da vedere più bello magari mettiamo qua intanto asciugamani cos'è andrebbero in un cassetto secondo te ma ci sono troppi oggettini qua che vediamo ci stanno qua i asciugamani vediamo un po' volendo sì anche poi la piastra ok altri asciugamani ah non lo asciugamano grosso non lo facciamo così ecco ok ok ma cioè posso dire che ormai siamo bravissime siamo bravissime creatura secondo me questo non lo so se mi piace qua però effettivamente dove potresti mettere qui ma non lo so vicino ai volte non mi piace preferisco l'entrata di solito va l'entrata apriamo l'acqua laviamoci le mani va no dai così va bene sì secondo me è così che poi in realtà qui abbiamo ancora un sacco di spazio ma secondo me troveremo qualcosa vediamo qua qualche medicina vediamo e troveremo nell'altra stanza tipo nell'armodio qualcosa potrebbe essere so mettiamo ora questa qui che poi tanto dopo ce la farà spottare adesso qualcosa mi dice pensi che forse ce la farà portare beh dai per adesso direi che è tutto ok posso vedere una cosa eh già meglio ok perfetto abbiamo l'armadio capino armadio qua cappello di paglia top 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 metto qua perché non so quante cose abbiamo qua quanto sposti abbiamo qua dietro non vedo niente intanto faccio così per rivelare lo spazio ok abbiamo dei cassettini cappellino l'altra gruccia vestitino gruccia toppino toppino vestitino ci sta più questo è per il cucito pantaloncini pantaloncini croccia una specchiera che andremo a metterla sicuramente qui dopo che avrò fatto ordine perché adesso veramente non devo valutare cosa mettere dove mutande calze mutande quel che è perché non abbiamo solo i nostri vestiti sono anche i vestiti dell'altra immagino il libro sto liberando questa dopo qua prendiamo anche voglio vedere avere tutti i miei cassetti a disposizione un bel po' di cruce devo dire e gli abiti sono sempre quelli nostri ma le cose varie i top 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 che bello mi fa ridere ma non so dove l'ho preso mi è venuto adesso, wow che bello zain, diciamo quante sono, qua ne abbiamo da fuori, calzini, ma quante valigie abbiamo? voglio mettere qua, muciange, calzini, la gonna, so più dove mettermi la loma, pigioama, pigioama, oh ok, possiamo iniziare, qua pensavo fossero due cassetti, invece, cioè due e due, quattro, invece è solo da decorazione, ti farò vedere una, ti farò vedere a casa mia, a casa mia, mia, a casa mia, mia, di Hatch Splendente, c'è una cassettiera finta, mi fa troppo ridere, perché praticamente è fatta così, io quando l'ho visto ci sono rimasta così, ho detto no, questa la tengo, perché è top per i ladri, praticamente, adesso lo deco in un video, ma tanto magari dentro ci darò niente, il gatto, tipo le robe per il gatto, e qua è fatta così, e ci sono i cassetti, qua è fatta così, ma poi in realtà si apre come se fossero ante, ci sono i cassetti finti, tipo, però sono ante, come un armadio, però ci sono i cassetti, c'è proprio la forma del cassetto, non so se mi spiego comunque nella home tour, anzi, prossima volta che vado, che sarà tipo domani, non so, seguimi su IG, seguimi su IG che magari mi trovi con il Lumecate Splendente, magari un giorno ti farò vedere questa cassettiera, dopo, top. Allora, mettiamo tutti i reggiseni insieme, reggiseni, anche quelli sportivi, no, quelli sportivi li mettiamo qua, non so quanti ne abbiamo in realtà, allora intanto li mettiamo tutti insieme, perché non so di chi sono i miei, già io non mi ricordo, quelli sono i miei e i suoi, capito? Quindi mettiamo tutto insieme, anche per quanto riguarda calze e tutto insieme, nel senso le mie e le sue. Calze e le mutande le mettiamo di qua. Ok. Qua in basso mettiamo i pigiami. Intanto ne abbiamo trovato uno solo. Ok, poi abbiamo talmente tante grucce che, secondo me, possiamo anche iniziare ad appendere le cose. Ok, allora, direi di appendere i vestiti prima. Vestiti, ne abbiamo tanti. I maglioni. Allora, c'è questo maglione qua, tipo della nonna. Vediamo qua. Non me lo fa mettere lì, non so per quale motivo. Vediamo, sposto questo. No. Vabbè, allora i maglioni li mettiamo in basso, intanto. Allora, anche le giacche. E magari ci stanno i vestiti. Vediamo un po'. Non mi fa mettere i vestiti come voglia. Beh, niente, i vestiti li mettiamo lì. Questo cos'è? Un altro vestito. Dopo, magari, li metteremo in ordine man mano. Qua c'è un top. Qua c'è un altro vestito. Qua si dovrebbe essere un altro maglione. Qui dove veste? C'è un altro... Cos'è? Un maglioncino? Lo possiamo mettere qua. Qua dove veste c'è un altro vestito. Però non me lo fa appendere. Allora, togliamo un po' di grucce inutilizzate. E mettiamoci queste, così mi appende l'abito. Benissimo. Gli abiti mi piacerebbe metterli tutti vicini. Allora, togliamo un altro vestito. Ottimo. Che focchia sta Roma? Ottimo. No, no. Andiamo con ordine come al solito. Che noi ci troviamo bene con il nostro ordine. Creatura. Ok. Ok. Poi, abbiamo altri abiti. Se non ho sbaglio c'è questo abito qui. Allora. No. Non volevo fare questa qua. Però, se poi pensiste. Allora. Ok. Alterniamo anche un po' i colori. o li mettiamo vicini per colore, anche, no? Non lo so. Sì, forse... Sì, no, 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 no. Ok. Poi. Qui abbiamo molti top. Bluse. Le bluse. Ok. Ok, mi piace. Poi abbiamo delle t-shirt, ma non siamo obbligati a... A metterle... C'è un'altra blusa qua. Eh, questo andrebbe... Per logica andrebbe qui. Per la mia logica. Ok. E per logica questa andrebbe qui e questa andrebbe qui. già meglio. Cioè è meglio in modo più estetica. Poi... Pioglierebbe aprire un altro po' di scatoloni per vedere che cosa troviamo. Altre... poi ci può bene mutandine eh no, aspetta, mutandine avevamo detto che mettevamo qua mutandine 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 ma ci può bene se non ci stanno più perché mettiamo qua ok mutandine ci piacciono i bua i leggings sportivi eccoli qua ne avevamo tanti se non ricordo male la camicia da notte che va con i pigiami però voglio rimettere ok un'altra camicia da notte è vero lei ha le camicie da notte è vero mi sto dimenticando di questa cosa un altro un top sportivo calzini mia bua mi piacciono i calzini a lei questo questo qui è un cappottino è vero mi stavo anche dimenticando di questo cappottino allora allora il cappottino lo mettiamo qua e in realtà andrebbe la giacca qui qui abbiamo il maglione l'altro maglione ma ne usciranno altre secondo me adesso qualche cosa lo mettiamo qua poi vediamo allora il chip opens mi piace questo ordine e via qua c'è la valigia la spostiamo qua poi mettiamo tutto qua sotto l'altro top che è uguale a questo solo che è in azzurra quindi mettiamo qua i calzini che sono di qua e ci sono di quelli color carne orribile ah no scherzo ok poi trovo tantine credo sia un altro pigiama ma non ce ne stanno più quindi andiamo a metterlo qua sotto dopo botandina pigiama ok ok il calzino quello lgbtq plus lgbtq plus botandina ma questo non va qua per niente questo qua ce ne stanno più no e questo cambia tutto questo cambia tutto allora allora peccato che questi non facciano fare uno sopra l'altro qui niente di questo va qua e qua niente di questo va qua questo lo mettiamo qua qua non va niente qua non va niente questi vanno qui volendo ok bene tornando qui ultimo scatolone poi sistemiamo tutto il profumo il profumo qua lo metteremo poi vediamo questi andavano in bagno in realtà allora me li ricordo in bagno possiamo metterli qua ho fatto un andobbio neanche fare le scale pigra anche nei videogiochi altri leggins una cassaforte leggins ok si un attimo un attimo lo so li ho bruciati un attimo lì adesso devi venire a rubere e a mettere fredda allora ci avanzano ci avanzano questi due cassetti e dove metteremo dei leggins sicuramente tutti quelli che ci stanno li schiaviamo lì qua sono t-shirts qui questa è una gonna le mettiamo qua questi sono leggins avanzati li mettiamo qua insieme ai pantaloncini corti e a posto così per adesso poi jeans aspetta adesso iniziano a mettermi fredda questa cosa e a me non piace questa cosa qui di mettermi fredda qua voglio fare la specchiera e questi li mettiamo qua ci sta la cassaforte qui perfetto top poi allora qui mettiamo il jeans qua voglio mettere questa cassettiera ma qui questo lo spostiamo un po' questo è un portagioie credo e qui anche perché ma è una gioia quindi non contiene nulla che simpatica poi dovremmo avere non abbiamo più cassetti vuoti per i jeans però volevo mettere i pigiami su insieme ok bene poi volevo mettere la borsa la valigia e lo zaino vicino e tutto a posto poi 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 potremmo mettere i vorrei vedere se è possibile mettere i maglioni qua in alto vicino a quei maglioni lì tipo questo qui benissimo questo qui non lo vuoi sopra no ok poi le gonne corte le possiamo mettere qua in alto benissimo poi i jeans li mettiamo qua dopo questo lo sposto perfetto qui un altro jeans ottimo perfetto perfetto questo sarebbe un top da ginnastica che noi avevamo messi come qua avevamo messo le cose da ginnastica ma non ci stanno volendo lo possiamo mettere qui perci se non ce ne stanno altri perfetto qui non mi fa mettere nient'altro quindi vabbè possiamo mettere vicino le vestaglie oppure anche ci sta qua un top no perchè non ho più grucce ho queste grucce qua ma sono un po' avanzate perchè non ho più jeans adesso qua mettiamo una t-shirt qua voglio mettere l'altra gonna curta ok scusami ecco ecco e fin qua tutto che ma vedo che lampeggia quindi 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 abbiamo sbagliato qualcosa qui questi qua non vanno qua questo può andare qui ok sono due lampade credo questo questo può andare no no mai qua però potremmo mettere i libri ci sono tutti quattro guarda eh e lì potremmo mettere ok hm 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 non lo so cosa sto facendo questo io lo vorrei secondo me andrebbe qua ecco però adesso rimane questo fuori che lì va bene qua ok e lì ve li rimettiamo lì che erano carini dai questi ovviamente erano carini ok poi cos'altro non va bene non va bene il computer qua non va bene il computer qua oh oh qua gli va bene lo lasciamo qua ok poi in cucina ovviamente non gli va bene lo sapeva questo che lì andava bene qua non gli va bene questo che secondo me questo ho una vaga idea che possa andare bene qua però non ci sta lo schiaffiamo qua è brutto però allora 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 lo mettiamo qua non ci sta qua ci sta ma è brutto vediamo se no dove potremmo in in soggiorno qua no non lo vuole qua qua non lo vuole ecco è diventato è diventato notte nel mentre non non pensavo diventato era notte anche prima non l'ho notato sul frigo possiamo mettere lo mettiamo qua sul frigo questo immaginavo fosse da esposizione qui non lo vuole qui volendo lo vuole però è brutto però se ne frega però vediamo la pianta di non lo vuole era bellissima allora no torniamoci un attimo la esposizione dovrebbe stare qui ma non c'è più posto neanche sul tavolo e allora farei così farei così perché questo l'altra volta era qui a posto che questo me lo fa mettere qua volendo lo sto a notire ok qua si sta già meglio e che brutto qua non volevo farli mettere qua vero? no questo possiamo metterlo qua un po' a posto questo possiamo metterlo qua perfetto già meglio ok facciamo così allora e poi questo bollettore non lo vuole qua però se lo metto qua va bene ok lo lasciamo qua poi che altro ce la vediamo qua bene? ah questo piatto volevo metterlo qua sopra top hai visto? perfetto e poi c'è una freccia qui dove è il problema? ah la pianta vabbè questa pianta qua non mi ricordo neanche dove era no no la pianta la pianta non la vuole ah l'ho messa lì vabbè lì va bene perfetto ce l'abbiamo fatta creatura non mi pare vero nuovo stickers c'è spazio a volontà e anche un giardino potremmo prendere un cane no io voglio un gatto che non gliene frega un cacchio del giardino al gatto ma vabbè no si anche tanto se ne va in giro no è finito me lo sentivo guarda oh no è finito io me lo sentivo che era finito che peccato vabbè compriamo subito un nuovo gioco fammi sapere comunque se vuoi vedere altri giochi qualcuno me ne aveva consigliato uno di un negozio dopo devo andarlo a vedere no quanto mi dispiace averlo finito mamma mia ci rigiocherei cento volte è stato bellissimo grazie mille per aver supportato diciamo questa serie e adesso mi viene mi dispiace non andare avanti con altri gameplay perchè la domenica è la nostra è la nostra domenica insieme è di gameplay quindi devo subito mettermi alla ricerca di un altro giochietto così rilassante che bello che peccato l'ho finito io quando ho posizionato quella pianta era ignara che sarebbe finito il gioco comunque ah beh questa serie termina qua lasciami tanti like così prossima domenica vedremo un nuovo gioco insieme ovviamente se hai qualche richiesta scrivimela pure nei commenti io come sempre ti auguro buonanotte buon relax un buon riposino un po' medediano ciao creatura i pulcini un buon un buon un buon